Ciao a tutti ragazzi, io sono Merita Nagro e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi farò vedere i miei disegni di Pikachu, oltretanto anche un disegno gigante Però questo sarà quello bonus Un nome, persone, una space Banda alle ciance, andiamo Questo è il primo Pikachu Bellino, non tanto Questi due sono i secondi Pikachu, dovevo deciso di farne Uno felice e triste, un altro bellino Pugcioso Questo è il terzo Pikachu, che ha il cappello di Ash sulla testa Ma la faccio non mi è venuta un gran che E quello laggiù è il quarto Pikachu Che l'ho fatto laggiù In più Quello bonus Che adesso vi farò vedere Se si rimpicciolisce Ecco ho fatto, ho fatto dei cuoricini E un cuore tipo che dice l'occhiolino Così Ho fatto un Pikachu Femmina Cheerleader Che la coda è esageratamente grande Ma vabbè Ok In poche parole L'ho rispecchiato con i suoi rispetti colori Che ovviamente è la squadra di Pikachu Non so qualcosa Però adesso vi faccio vedere una cosa figa Che ovviamente è la squadra di Pikachu Metti a fuoco Ehi Vuoi mettere a fuoco? Perché non metti a fuoco? Cioè così metti a fuoco Lontano non metti a fuoco Sei da fuori? Ecco Tadam Ehm Bu Eres veio ah no, non lo so girato la metterò su YouTube bene ragazzi il video è finito se vi è piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutti i video che io faccio nonostante anche quello di Fortnite che farò oggi, dovrò il telefono a mio papà e farò una partita però non parlerò perché quello che usiamo noi per l'iPhone per la registrazione schermo diciamo non senti nemmeno i rumori che stanno dentro il gioco quindi sapete la intro la farò la intro mi metterò in un momento vicino sulla telecamera così mi vedrete farò la intro e cominceremo a giocare quindi spero che il video vi sia piaciuto come ho detto prima lasciate un like e scoprietevi al canale cliccando la campanellina cliccando il pulsante iscriviti attivate la campanella per ricevere tutti i miei video che farò oggi ciao 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 ciao